Giusti Walter presenta Billy, cane, arterio sclerotico. Signore e signori, buona visione. Augusto 2016, occhicci, chi è venuto a mangiare? Parlo sempre io. Ma abita al senso. Ma che si fa oggi? Si mangia. Allora, migratori per diabetici. Io, ma la pasta d'asciughe per diabetici. La maionese per pasta per diabetici. La spalla per diabetici, guarda. Il pane per diabetici. Quello costa caro. Il pane di pane, guarda qua, per diabetici. Anche il vino per diabetici. Poi la grappa. La grappa, puttana miseria. Ora, che finisca la grappa può andare anche bene. Ma che la bottiglia da un litro diminuisca anche la bottiglia, non mi sembra. Ma quella bottiglia lì l'ha portata per Natale però. E da Natale bevi la grappa, l'ha portata anche via. Un cavolo. Si guarda io questa lì. Questa lì sarebbe bravo per me. Sì, è per te. Il secondo. Ma che prato? Ora glielo do a Billy. Billy? No, a Billy no. E dorme. Aspetta. No, no, va bene. Fagli la annuscia, vedrai. Dai, 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 dai. Non mi piace nemmeno a lui quella roba lì. Ti dipendi qui. Sì, sì, vai. Billy, vieni via, dai. Fagli la assaggia. Senti, senti. No, una vuole nemmeno lui, è roba per diabetici. Guarda, una vuole nemmeno lui, vai. Vai, Billy, mangia, vai. Tanto il marino, sai che va a mangiare ai ristoranti, va a mangiare. Da Cibreo, io ci redo. E va da Cibreo. Fagli la pazienza. La bella è mangiata, Billy. L'ha mangiata? Sì, l'ha mangiata, sì. Ma, meno male, almeno lui. Bravo, Billy. Sì. Sì, non è che questo qua. Quello, quello, no, è pane per diabetici. Io non lo mangio, senti. No, uno vuole, uno vuole. È pane per diabetici. Sì, non lo vuoi? Sì, ma lui ha l'arterosclerosi, non c'è a me la diabete. Questa merdina si vede qui sotto, che lo vuole. Senti un po', ma lui ha l'arterosclerosi, lui, non c'è a diabete. Non lo vuole nemmeno lui, dimmi se... Ma attenti, mi senti male, vada lì che è stato sentito. Non lo vuole mangiare io. Billy, che figura mi fa fa? Ora gli faccio il caffè. Te lo vuoi, Billy? No, poi mi fa il caffè. Un po' di grappa, meno male, ci è rimasto. Ma io mi do, ma a chi siamo andati da Valle dei Miracoli? Perché finisce la grappa, insomma, che la bottiglia da un dito diventa una bottiglina. Ma sei te che l'ha fatta diventare così. Da Natale c'ho la grappa tua. Me l'hai bevuta tutta. Signore, il signore, dopo questa bella cena ha mangiato. Ma di far male bere, eh. Però il primo era buono, ti è piaciuto, eh? Non nel bosco perché mi ha detto, Donati, che c'è fungo. Sì? Ma sì, sì. Dove fai? C'è da lavare? Ti fa pedonini i funghi. Ma non con questa, con le roba da... Da diabete. Eh, guarda, guarda il pacco di roba. Io la mangio a questa roba. Ma ora... Questa è un biscotto che è anche per questo. Dalla Billy, dalla Billy, tanto lo mangio. Ma uno lo vuole. Sì, quello lo vuole. Non lo sa. No, tu dà un caneo. Figurami. Oh, Billy, svegliati. Ma che fai te? Ma che fai te? Ma anche te? Ma non ti voglio neanche te? Sei peggio del Marini, eh. Ma stanotte, ma tra Sabina, è tornata a mezzanotte. È andato per cavolo. Mettetelo in bocca, vedelo mangio. No, no, no. No, uno vuole, via. Ha visto. Ma nemmeno biscotti, Dio Bono. Non è nemmeno lui, non me lo vuole. Sono della plasma, quei biscotti lì, sono cadi, Billy. Ma scusami. Billy, guarda, ora lo piglia, ora lo piglia. Dai, dai. Lo vuoi o non lo vuoi? Sì, sì, lo piglia, lo piglia. La figura, su. L'ha preso? No. Piglia, Billy, dai, pover... È buono. Dai, Billy, nato da un cane, che figure mi fai fare, mi fai? È buono, va bene. Anche te, ora, ti ci metti anche te? È buono contento, per me o meno. Porca miseria. Ma meno, e si può dire, è roba da al canto. È roba da al canto. Oh, lappe, meno male. No, no, l'ha posato, l'ha posato. T'ha ragione, t'ha ragione. Eh, te lo porto al babbo, vai. Vai, vai, io, portala a casa, Marini, vai. Te lo porto io, vai. Vai, l'ho dato a un nipote, vedai, loro lo mangiano. Eh, signore, signore. Dopo questa bella mangiata, noi ci prepariamo. Non è bene me, Billy, ma... Signore, è buono. Ma che è buono? Non è buono, per diabete, nulla. Non è buono, nemmeno lui. È scappato, guarda. Roba da mattina. Ma che figure mi fanno far via. Per davvero fanno cosa. Fammi un caffè, ci si mette un po' di grappa, qua qua cerca fuchi lì, di dentro. Sì, andiamo. Lascia, vai. Vai, vai. Billy, vai. Billy, ma te ti sgangherò dopo, perché c'è da rimanere qui, vedai me la paghi, eh. E' posto Billy, posto Billy. Nemmeno ella, non ha mangiato nemmeno biscotti, nulla. Va a pigliare un domoteo e tutti i fiorentini, Billy. Signore e signori, dopo queste belle cose, con un primo piano di Billy, che va al culo a tutti, perché Billy ha l'enterosclerosi, non c'è proprio da fare. Ah, ora mangia il biscotto, mangia il biscotto, via. No, 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 va via il biscotto, lo va a portare nel bosco. Billy, mangia il biscotto, via. Con Billy che mangia il biscotto, io sono contento. E' finita, arrivederci, a presto, ciao, ciao. No, no, lo mangia, lo mangia, lo mangia. No, no, l'ha mangiato, l'ha mangiato. Un po' di brodo, che è quel cane lì. Gli viene anche la tosse. C'è l'enterosclerosi, il cane. E c'è l'enterosclerosi. L'ha mangiato, via. E Billy che ha mangiato il biscotto. No, niente, nemmeno velo. Signore e signori, arrivederci. Saluta Armarini, saluta. Oh, guarda, è arrivata anche la Sabrina. Sabrina, Billy ci ha fatto votare le scatole, non ha voluto nemmeno biscotti. Deve essere malato. Per me c'è l'enterosclerosi. Signore e signori, arrivederci. Basta, via, vado via.